Contro il Bari Un nostro obiettivo dopo tante partite che non c'era capitato Quindi abbiamo lavorato tutti bene in questo senso Siamo contenti di aver ottenuto un clean sheet che mancava da un po' di tempo Sono molto felice per aver dato un contributo alla squadra anche con il gol che non capita molto spesso Spero di riuscire ad arrivare al mio record che è di tre gol a Venezia Però quando ci sarà bisogno spero di riuscire a dare una mano alla squadra I nostri tifosi venerdì sera ci hanno veramente aiutato dall'inizio alla fine Penso che dopo il gol del 2-0 c'era un'atmosfera magica allo stadio Si percepiva anche dal campo e quindi ci fa molto piacere Speriamo di continuare così e dargli soddisfazioni fino alla fine Sabato a Piacenza contro la Ferrapi Salò Sicuramente troveremo una squadra molto diversa da quella che è stata qui all'andata a Palermo È una squadra in grande forma È una squadra che sta giocando molto bene Ha messo in difficoltà tutte le prime del campionato Quindi dovremmo prepararci bene, fare una settimana importante Essere concentrati all'inizio alla fine perché sarà una gara molto difficile La classifica della B è sempre molto corta come ogni anno Questo dimostra il fatto che tutte le squadre sono molto competitive E se non si approcciano bene alle partite si può perdere e vincere contro chiunque Quindi dobbiamo prepararci bene Sappiamo quello che dobbiamo fare in settimana per poi essere pronti per affrontare la prossima partita Il mercato di gennaio è stato sicuramente molto importante La società ha rinforzato la squadra Sono arrivati tre nuovi giocatori che si sono subito inseriti molto bene nel gruppo In due hanno già giocato con noi e hanno dimostrato subito il loro valore Ciaka ci darà sicuramente una grande mano Un ragazzo giovane di talento Si metterà a disposizione da subito del gruppo Siamo contenti di averli accolti nel miglior modo E speriamo che ci possa aiutare da qui alla fine Qui a Torretta sicuramente adesso che i lavori stanno finendo La società ci sta mettendo a disposizione un centro sportivo veramente di alto livello Siamo contenti di questo, di poter lavorare con tutti i comfort possibili E questo ci aiuta a dare sempre il massimo ogni giorno E anche a dare alla società quello che loro mettono a disposizione a noi Il City Football Group come sappiamo è sempre con noi Ci da sempre una mano, ci dimostra sempre la loro vicinanza E non solo attraverso le strutture che sta dimostrando di poter fare Ma anche nelle parole di tutti i dirigenti che sono sempre vicino a noi In questi primi sei mesi qui a Palermo mi sto trovando davvero molto bene Sia come città che con la gente Tutti mi hanno aperto sempre le loro porte Tutti mi aiutano Per qualsiasi problema tutte le persone sono sempre molto disponibili in tutto E la città è veramente molto bella Mi sto trovando davvero bene Grazie a tutti